Prosegue inarrestabile la marcia del Real Rimini, Targato Iacobelli, che vince 5-1 il derby di Cesenatico e aggancia al terzo posto a Cirimini, Renato Curi, Civitanovese e Sant'Arcangelo. L'incontro si sblocca dopo solo i tre minuti. Audino vince un contrasto al limite dell'area. Appoggia per Procopio, che batte Di Leo. Al quarto, azione personale di Piccolo. Conclusione della distanza, Di Leo blocca a terra. Al sedicesimo, il Cesenatico rimane in dieci. Figliaggi commette una fallo di reazione su Gambini. L'arbitro estrae il rosso. Al diciottesimo, i corsari provano a reagire con una bella iniziativa di De Matteo. Verì blocca a terra. Al ventiduesimo, rigore per il Cesenatico. Teodorani entra in area. Cenciarini lo stende. L'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri, lo stesso Teodorani si fa ipnotizzare da Verì, che blinda la propria porta. Al venticinquesimo, ancora Cesenatico pericoloso con una gran botta di De Matteo dal limite. Verì risponde alla grande. Un minuto dopo, al ventiseiesimo, il Real raddoppia con un euro-goal di Casolla. Palla che si infila l'incrocio alla sinistra di Di Leo. Al trentatresimo, punizione della trequarta di Di Giulio, incornata di Piccolo, di poco alato. Non accade più nulla e dopo un minuto di recupero si va al riposo con il Real Rimini in vantaggio per 2-0. Pronti via e il Cesenatico accorcia le distanze al terzo con una bella diagonale di Teodorani. I corsari ci credono e al quinto ci provano con speranza. Dalla distanza, Verì si salva in due tempi. Al diciottesimo, cross di Novi, farà Begoli, da buona posizione, incorna alato. Ancora Cesenatico pericoloso alla ventesimo con una gran botta di speranza. Verì blocca in due tempi. Al ventitreesimo, al primo tentativo della ripresa, il Real Rimini trova ancora la via del gol con una perfetta punizione di Procopio. Cesenatico risponde un minuto dopo con una bella conclusione di Teodorani. Verì si supera ancora una volta. Al ventisettesimo, contropiede il Real con Procopio, che larga per Casolla. Troppo debole il tiro del numero 11, ma gli a scacchi e di Leo non ha problemi. Al trentaduesimo, bella combinazione, Procopio piccolo. A conclusione del numero 10 è deviato in angolo da un difensore. Minuto trentotto, occasione per il Cesenatico, con un bel sinistro dell'ex Rimini calcio Pignattaro. Verì, ancora superlativo, devia in angolo. Al minuto quaranta, il poker per il Real Rimini, con una precisa conclusione di Piccolo da fuori aria. Al quarantaquattresimo, Cesenatico pericoloso con un tentativo di Simoni su cross di Teodorani, sul quale Verì risponde ancora una volta presente. Non è finita, perché al quarantottesimo c'è gloria anche per Meloni, che infila per la quinta volta la porta di Di Leo. Finisce 5-1, per il Real 13 punti nelle ultime cinque partite, ma complimenti anche al Cesenatico, che per un'ora ha ben figurato.